Questa stagione sarà un Venezia decisamente in salsa scandinava, infatti dopo gli acquisti di Bjarke Bjarkason e di Dennis Jonsen, ultimo arrivato dalle terre scandinave appunto è Otar Magnus Carlson, un centroavanti islandese classe 1997. Ex giovanile dell'Ajax ha giocato col Vikingur, squadra dal quale l'ha acquistata la società lagunare, ex mielbu ha giocato nel Trelleborg e anche nel Molde in Norvegia, ultima stagione in Islanda appunto col Vikingur, 12 partite, 9 gol. Sono qui appunto per presentarvelo per i tifosi del Venezia e cari amanti del calcio giovanile e non scandinavo soprattutto. Beh, che dire, è una prima punta molto fisicata, di 190 cm, leve lunghe, ma nonostante ciò è dotato anche di una buona progressione, velocità sul lungo che sul breve. Ricorda esattamente Edin Dzeko, se volete un Edin Dzeko islandese ecco Carlson, infatti è appunto di statura fisica molto 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 imponente e ha lo stesso stile di gioco. Nonostante sia una prima punta, tende molto ad entrare verso il tre quarticampo per difendere palla o comunque smistarla verso, fare ad appoggio verso le mezzali centrocampisti o comunque per smistarla verso gli esterni. Sicuramente un buonissimo investimento, anche perché non penso che sia stato molto oneroso, di cifre non si è parlato. Si è parlato e ha firmato un contratto con il Venezia per tre anni, quindi fino al 2023. Sicuramente sarà un attaccante che potrebbe essere molto utile. Gli islandesi hanno sempre avuto un grande appeal qui dopo anche Bjarnason e i simili, anche Magnusson, prima la Juventus, poi al Cesena se non erro. Comunque veramente un acquisto interessante. Potrà giocare tranquillamente nel 4-3-1-2 del tecnico del Venezia, si potrà mettere tranquillamente a servizio della squadra. Buona corsa, buona visione di gioco, ma soprattutto protezione palla. Tecnicamente può ovviamente migliorare anche perché è giovane il lavoro giustamente che si fa in Islanda. È giusto e lievemente diverso da quello che si fa in Italia, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico. Una prima punta che potrebbe eventualmente anche giocare come perno centrale in un 4-3-3. Da vedere però se comunque il tecnico del Venezia opterà per questa soluzione. In caso contrario è una riete sicuramente importante. Bisogna vedere sicuramente il suo trattamento perché giocare al Mielbu o al Molde o al Trelleborg, diciamo anche nella ex giovaniglia, è comunque diverso che giocare in una serie italiana perché nonostante non sia una massima serie è un campionato veramente, veramente difficile. Quindi staremo a vedere quello che farà Carlson in maglia nero-verde. Onestamente gli auguro tutte le fortune perché come sapete io amo i giocatori scandinavi e spero che insieme a Dennis Johnson e insieme a Bjarki Bjarkason, ovviamente io ho già fatto le presentazioni di questi giocatori, quindi ve lascio in schede o in descrizione, non lo so, deciderò al momento di caricare il video, spero appunto che questa nuova generazione di calciatori scandinavi possa dare una grandissima mano al Venezia e soprattutto portare l'alto nome vichingo in Italia. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso se non mi piace iscrivetevi al canale e condividete. Mi raccomando, adesso poi il Venezia mi sta rubando il posto al Monza perché al Monza c'è Guitkier e al Venezia c'ha questi tre ragazzi e io ragazzi tifo tutte le squadre dove sono scandinavi, quindi questa è la realtà. Vi mando un abbraccione e ci vediamo nei prossimi video. Ciaoone!